Prende la parola il Presidente della Repubblica. Rivolgo un saluto molto cordiale a tutti, al Sindaco e attraverso di lui a tutti i cittadini di Casoli, ringraziandoli per questa accoglienza così calorosa e così aperta, così affettuosa per la Repubblica. Un saluto al Presidente della Regione, alla Vicepresidente della Camera dei Deputati, al Vicepresidente del CSM, a tutti i sindaci presenti, un saluto particolare all'Ambasciatore del Regno Unito, all'Incaricata d'Affari della Polonia, ringraziandoli per la loro presenza. Mi rivolgo ai partigiani, ai veterani della Brigata Maiella, di cui abbiamo sentito poc'anzi ancora una volta ricordare il valore e il contributo alla storia del nostro Paese. Vi è una storia che viene non soltanto trasmessa, ma testimoniata dal vostro impegno, raccolto nell'Ampia anche. Vi è una, credo un significato particolare nel ricordare la liberazione il 25 aprile qui a Casoli, qui in Ambruzzo. Sono molto lieto di poterlo fare, perché Casoli è stato uno dei centri nevralgici della Resistenza in Abruzzo. E fare qui, celebrare qui, la festa della liberazione consente di sottolineare le pagine di storia non sempre adeguatamente sottolineate e conosciute, scritte della Resistenza nel mezzogiorno d'Italia. In questa regione, così bella Presidente, così fiera, si svolsero tra il 43 e il 44 alcuni episodi più drammatici e decisivi della lunga guerra, lunga e sanguinosa guerra per liberare l'Italia dal nazifascismo e per restituire il nostro Paese al novero delle nazioni democratiche e pienamente civili. da Ortona si imbarcarono il re e i membri del governo Badoglio. Abbaccaevano abbandonato precipitosamente Roma, lasciandola al suo destino di occupazione tedesca. Il suo gran sasso fu tenuto, fu detenuto e poi prelevato dai tedeschi Mussolini con un evento che portò alla nascita della Repubblica di Salò, che portò lutti e sangue tra gli italiani sotto il controllo pieno e incondizionato della Germania nazista. Ma soprattutto la linea Gustav, caposaldo fortissimo della difesa tedesca, tagliava in due l'Italia dall'Adriatico al Tirreno e riuscì a fermare l'avanzata degli alleati verso Roma. Il fronte italiano, come venne chiamato dagli anglo-americani, si stabilì per lunghissimi mesi e durissimi mesi tra Ortona, Cassino e Minturno attraversando queste terre e queste montagne di cui oggi noi apprezziamo la grande bellezza ma che allora videro in mani tragedie. Le battaglie si combatterono in Abruzzo, sul versante adriatico nel 1943, furono tra le più aspre dell'intero conflitto nel territorio italiano. Ortona venne definita la Stalingrado d'Italia. La guerra combattuta per anni su fronti lontani, in Africa, in Grecia, nei Balcani, in Russia, irrompeva con fragore nel territorio del nostro Paese, coinvolgendo con il suo carico di distruzione e di morte la popolazione italiana. Iniziarono i bombardamenti aerei, i feroci combattimenti terrestri e poi per i civili la barbara sequenza di saccheggi, deportazioni, sollamenti, rappresaglie, stragi. In quel periodo la regione d'Abruzzo con i suoi abitanti visse una vera epopea tragica e insieme eroica, diventando insieme alle aree limitrofe, il teatro di operazioni belliche di importanza primaria per le sorti della guerra. Lungo lì in Augusta si produceva, in una scala ridotta, il conflitto mondiale che opponeva la Germania italiana e i suoi marginali alleati europei a eserciti venuti da ogni parte del mondo. Gli erano inglesi, americani, polacchi, canadesi, neuzerandesi, nordafricani, indiani. Tra queste montagne, così alte e innevate nell'inverno, sulle pendici del Gran Sasso, nelle valli della Maiella, tra paesi e borghi d'alta quota, nacquero spontaneamente nucleo del movimento di resistenza al nazifascismo, i primi in Italia. Tra di essi vi erano intellettuali, contadini, pastori, militari tornati dal fronte, carabinieri. Vi erano antifascisti di lungo corso ed ex militanti fascisti che sentivano delusi e traditi. Vi era tanta gente semplice, decisa a difendere il proprio territorio dei saccheggi e dalle prepotenze. La riconquista della libertà e dell'onore ne costituiva l'elemento unificante. L'8 settembre del 43, con le sue tragiche conseguenze, aveva si rappresentato il simbolo più evidente e per alcuni aspetti grottesco della disgregazione dello Stato fascista. Ma in molti cuori e in molte coscienze l'adesione al fascismo si era già frantumata. A partire dai campi di battaglia in Africa o in Russia, dove uomini male armati e male equipaggiati erano stati cinicamente mandati allo sbaraglio per gli sciagurati e velletari sogni di potenza e di conquista della dittatura. L'occupazione nazista, spalleggiata dai fascisti di Salò con i suoi metodi barbari e disumani, con le rappresaglie, le torture, le deportazioni, la caccia agli ebrei, le stragi di civili, aprì definitivamente gli occhi della popolazione sulla natura oppressiva e violenta del fascismo. Non era quella fascista la patria che aveva meritato il sacrificio eroico di tanti soldati italiani. La patria, che rinasceva dalle ceneri della guerra, si ricollegava direttamente al risorgimento, ai suoi ideali di libertà, di umanità, di civiltà, di fratellanza. Non fu dunque per caso, ce l'ha poc'anzi ricordato, con molto efficace il professor Patricelli, che ringrazio molto per il suo intervento interessante e coinvolgente. Non fu per caso che gli uomini della brigata Maiella scelsero per se stessi il nome di patrioti. La stessa denominazione dei giovani che rischiavano la morte in nome dell'Unità d'Italia. La resistenza fu un movimento corale, ampio e variegato, difficile da racchiudere in categorie o in giudizi troppo sintetici o ristretti. A lungo è stata rappresentata, quasi esclusivamente, come sinonimo di guerra partigiana nelle regioni del nord Italia o nelle grandi città. E' certamente vero che le bandi armate operanti al centro-nord costituirono il fenomeno più ampio, evidente e caratteristico della guerra di liberazione, ed è giusto ricordarlo. Ma gli studi storici hanno via via allargato l'orizzonte al contributo fondamentale che alla resistenza dietro le forze armate italiane, sia nei teatri di guerra lontani, ed è importante ricordare gli episodi drammatici di Cefalonia, di Coho, di Corfu, sia sul territorio nazionale, dove circa 260.000 italiani combatterono a fianco degli alleati partecipando all'avanzata. Il prezzo pagato tra gli italiani fu di circa 21.000 morti e 19.000 dispersi. Il generale Clark, soldato piuttosto ruvido e non di certo avvezzo ai complimenti, riconobbe che quattro gruppi di combattimento italiani e i partigiani sostennero una parte importante nella vittoria, avendo così l'onore di partecipare alla liberazione del Paese. Da qualche tempo, e doverosamente, gli storici hanno puntato l'attenzione anche sui militari italiani deportati nei campi di concentramento in Germania, in condizioni terribili, per il loro rifiuto di servire sotto l'insegna di Salò e dell'esercito nazista, a loro venne persino negato lo status di prigionieri di guerra. Furono più di 600.000. Una cifra enorme, tra di loro molti generali e ufficiali superiori. Pochi cedettero, in cambio di cibo e di condizioni di vita più accettabili. La stragrande maggioranza, la quasi totalità, rimase compatta, nonostante la fame, i patimenti, il freddo e i maltrattamenti. Circa 50.000 di loro non fecero più ritorno. Va rammentato anche che il movimento della resistenza non avrebbe potuto rassumere l'importanza che ha avuto nella nostra storia, nella storia d'Italia, senza il sostegno morale e immateriale della popolazione civile. Per essere resistenti non era necessario imbarciare il fucile. I terrificanti proclami tedeschi promettevano la fucilazione immediata e la distruzione della casa per chiunque avesse assamato un soldato alleato, nascosto un anitente alla leva, aiutato un ebreo, sostenuto una banda partigiana. E i nazisti passavano con crudeltà dalle parole ai fatti, senza fermarsi davanti alle donne, ai bambini, agli anziani inermi. Chiunque in quegli anni foschi si dò la morte con coraggio e benegazione merita pienamente la qualifica di resistente. Come notava con molto acume Aldo Moro in un suo discorso del 75, il contributo delle popolazioni permisse la resistenza di superare il limite di una guerra polpatriottico-militare, di un semplice movimento di restaurazione prefascista e di diventare un fatto sociale di grande importanza. Una considerazione che getta luce ulteriore anche sul contributo importante alla lotta di liberazione delle popolazioni meridionali e tante insurrezioni da Napoli a Matera, da Nola a Capua, alle Tante in Abruzzo, attestano la percezione da parte degli italiani della posta in gioco. Da una parte i massacratori, gli agruzzini, i persecutori di ebrei, dall'altra la civiltà, la libertà, il rispetto dei diritti inviolabili della persona. Nelle parole della donna anziana, poco anzi citata dal professor Patricielli, fucilata, può essere sanato un inglese, vi era chiusa molta parte del senso della storia della nostra resistenza. Più che approfondite teorie politiche, coltivate dall'élite, era il riconoscimento della comune appartenenza al genere umano, a costituire l'assoluto rifiuto di ogni ideologia basata sulla sopraffazione, sulla violenza, sulla superiorità razziale. Nella lotta al nazismo, il popolo d'Abruzzo fu particolarmente esemplare, pagando un tributo alto di sangue che va ricordato adeguatamente, con riconoscenza e con ammirazione. La rivolta iniziò subito dopo l'8 settembre, con episodi spontanei ma diffusi. All'Aquila, nove ragazzi, ragazzi, sorpresi con le armi in pugno, furono fucilati sul posto dei tedeschi. Nessuno di loro superava i venti anni. A Bosco Martese, sulle montagne del Terramano, si adunarono 1600 uomini in armi. Vi erano 300 bandati, un centinaio di prigionieri di guerra, inglesi e slavi, evasi dei campi di concentramento. Ma la maggior parte erano giovani provenienti da Teramo, decisi a combattere. Per più di 24 ore riuscirono a tenere testa all'esercito tedesco. Poi di fronte a un nuovo attacco con armi pesanti e a rinforzi si dispersero tra i boschi per continuare la lotta. Anche qui, un battesimo del fuoco. Commentò Parri, comandante nazionale dei partigiani, quella di Bosco Martese fu la prima battaglia nostra in campo aperto. Insorse anche la città di Teramo. Pure qui il bilancio fu tragico. I capi dei rivoltosi, guidati dal medico Mario Capuani, sostenuto dai carabinieri della caserma del luogo, furono barbarmente trucidati. Si rivelò Lanciano, uno dei protagonisti della rivolta. Trentino Labarba fu orrendamente seviziato in pubblico da un soldato nazista prima che di trafiggiolo mortalmente. Furono quasi un migliaio le vittime civili di Eccidi e rappresaglie. Pietransieri, 125 morti. Sant'Agata di Gesso Palena, 36 morti. Capistrello, 33 morti. Francavilla, Arielli, Onna, Filetto, Lanciano, Monte Rodomo, Pizzo Ferrato, Busi sul Tirino sono alcuni dei nomi dei paesi d'Abruzzo che conobbero la feroce nazista contro la popolazione civile. Ma il terrore, le fucilazioni non impedivano, al contrario, in qualche modo aumentavano l'impegno degli abruzzesi a fianco dei liberatori, l'impegno di anziani, di donne, di ragazzi, di molti sacerdoti, chi poteva si impegnava attivamente, rischiando di continuo la vita. Si aprirono così, tra questi monti, i sentieri della libertà. Pastori, cacciatori, guido locali accompagnavano generosamente soldati alleati e italiani, ebrei, fuggiaschi e perseguitati al di là della linea Gustaf, mettendoli in salvo. Tra questi fu anche, come è stato ricordato, il mio illustro predecessore, Carlo Azziglio Ciampi, in fuga con un suo amico ebreo, Benemino Sadun. La grande scrittice, Abba Cespedes, intellettuale e partigiana, ci ha lasciato un'escrizione bellissima del popolo abruzzese in quegli anni, che vorrei leggere, perché è forse una delle più belle testimonianze su quel che ha fatto la gente d'Abruzzo in quel momento. Entravamo nelle vostre case timidamente, un fuggiasco, un partigiano e un oggetto ingombrante, un carico di rischi e di compromissioni, ma voi neppure accennavate a timore o prudenza. Subito, le vostre donne asciugavano i nostri panni al fuoco, ci avvolgevano nelle loro coperte, rammendavano le nostre calze logore, gettavano un'altra manata di polenta nel paiolo. Non c'era bisogno di passaporto per entrare in casa vostra. C'erano inglesi, romeni, sloveni, polacchi. Voi non intendevate il loro linguaggio, ma questo non era necessario. Chi avessero bisogno di aiuto lo capivate lo stesso, che cosa non vi dobbiamo, cara gente d'Abruzzo? Ci scedevate i vostri letti migliori, le vesti gratis se non avevamo denaro. Queste parole sono splendide e sottolineano... Vengono poi le geste della Brigata Maiella che ci conducono qui oggi a ricordare per tutta Italia la liberazione il 25 aprile. Partita dall'Abruzzo e finita nel Veneto. Ce l'hanno narrate poc'anzi con molta efficacia e con molta partecipazione il professor Patricelli appunto e con la sua testimonianza scritta Antonio Rullo che combatte con questa leggendaria Brigata accanto a Ettore Troilo e a Domenico Troilo straordinarie figure a ricordare sempre. desidero ringraziare Antonio Rullo per il suo intervento per il suo messaggio che aggiunge aggiunto commozione e calore al nostro ricordo. saluto molto i figli presenti di Ettore e Domenico Troilo e li ringrazio per la presenza così significativa tra di noi. La nascita del momento della resistenza che mosse qui in Abruzzo i primi passi segna il vero spartiacque della nostra storia nazionale verso la libertà. Chiude la fase della lettatura e porta l'Italia all'approdo della libertà della democrazia della Costituzione. La vita democratica dopo il cupo del degno fascista ha le sue radici nella resistenza iniziata qui in Abruzzo. Nella nostra Costituzione sigilo di libertà e democrazia come scrisse Costantino Mortati nel 55 nel decennale della liberazione si collega la nostra Costituzione al grande moto di rinnovamento espresso dalla resistenza. Vorrei concludere rivolgendo un pensiero commosso anche a tutti quei giovani soldati provenienti da tante parti del mondo che sono caduti su questo suolo sul nostro suolo italiano per liberarci al gioco nazifascista e che riposano ai cimiteri di guerra. Non sono stranieri non sono stranieri sono nostri fratelli il ricordo della Repubblica li abbraccia insieme ai nostri caduti della resistenza a cui è sempre rivolto il nostro pensiero riconoscente e ammirato. Vive la resistenza viva l'Italia libera e democratica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti